E' il Fasano ad aggiudicarsi il derby contro il Brindisi, a decidere l'incontro un calcio di rigore nei primi minuti realizzati da Corvino. La formazione di casa riprende la corsa a playoff, il Brindisi interrompe la serie di 5 vittorie consecutive ma resta agganciato al gruppone per la lotta a salvezza. Come detto, dopo solo 8 minuti si sblocca il risultato calcio di rigore per il Fasano, dal dischetto si presenta Corvino che spiazza Cervelli. All'undicesimo la reazione della formazione ospite con Lopez che da buona posizione calcia alto sulla traversa. La gara è combattuta più dal punto di vista agonistico che tecnico. Al ventottesimo ci prova Bage con un inserimento dalla sinistra, la sfera taglia tutta l'area di rigore e termina sul fondo. Nel finale si rivede in avanti il Fasano, dalla distanza prova il tiro a girare Corvino colpendo la parte esterna nel palo. Nella ripresa al sesto minuto ancora Fasano subito in avanti, cross dalla destra, lo Savio sotto misura trova la deviazione ma attento Cavalli alla parata. Il Brindisi si vede con l'occasione più importante al diciottesimo con il giovane Di Giulio che si accentra dal limite e cerca un tiro che il portiere di casa devia sulla traversa. Al ventitresimo invece ci riprova il Fasano in ripartenza diagonale di Sosa che termina sul fondo. Nel finale Alfano per il Brindisi da sottomisura non inquadra la porta avversaria. In pieno recupero ancora un contropiede per il Fasano, questa volta ci prova Calabria con un diagonale che non inquadra la porta brindisina. I padroni di casa festeggiano il ritorno al successo, il Brindisi invece pensa già al match fra 15 giorni al Fanuzzi contro il Casarano.